Sto bene vestito così? Come vedete sono uno chef. Il mio nome è Gualtiero Saporito. Gualtiero è il nome, Saporito è il cognome. Un Natale da chef. Parla di un gruppo di chef e appunto sommelier che si preparano ad avere un appalto per il G7. E vengono a soldati apposta per questo per perderla questa gara. E perché devono perderla? Guardate il film. Ci sono tutti gli ingredienti chiusi per farse una buffata le risane. Viaggio Izzo, Dario Bandiera, Bolli, Conticcini. E io sono l'unica che non cazzeggia. Per quello sono una nuova insidita in questo cast. Stella, hai visto via? Sto facendo un'altra volta. Lo spaghetto con le vongole mio. E la bulla. E tutti per uno. Ma manco se mi pagano. Mai, mai. Lei è il più grande chef del mondo. Giorno, non ho mai mangiato nulla di cibo. No, senza di lei sono rovinato. Con queste mani creo delle cose straordinarie. Dei cibi sublimi che hanno dei sapori unici. Mi sembra pericoloso. Fugio. Ascolta mi. Fugio. 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 Laia! No ta 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 Autore dei sorrisi